devi fare una telefonata urgente ma non hai abbastanza batteria il tuo smartphone si è scaricato all'improvviso da oggi basta stress sconfiggi l'ansia da cellulare scarico con need power la nuovissima rete di postazioni di ricarica per locali pubblici power bank da tavolo con porta volantini power station luminose da parete soluzioni in metallo per gli ambienti più affollati abbiamo la proposta perfetta per ogni tipo di locale agli utenti basterà scaricare l'app gratuita need power e individuare il punto di ricarica più vicino a loro e quando la batteria va sotto il 15 per cento di autonomia l'app invierà una notifica con l'indicazione dei punti need power nelle vicinanze e nel frattempo le attività commerciali potranno inviare promozioni offerte e creare sistemi di fidelizzazione con il proprio pubblico geolocalizzato entra a far parte della nostra community contattaci subito su www.needpower.it e unisciti a need power la ricarica giusta al posto giusto